Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi uso il Tascam perchè questo video si tratterà di uno show in te degli acquisti che ho fatto con i saldi per ora ma non penso ne farò tanti tanti altri non mi serve tantissimo, io ho preso quello che mi serviva anche qualcosa in più e niente, vi faccio vedere un po' cosa ho acquistato vi faccio vedere un po' cosa ho acquistato vi faccio vedere un po' di fabric sound, un po' di tapping che è quello del tavolo volevo anche sapere se ti piace la mia segnalconciatura l'ho fatta proprio in due minuti è una cosa molto semplice però non so, ero particolarmente ispirata allora, cominciamo dagli acquisti che ho fatto il 6 gennaio e mi sono andata un po' alla pazza gioia sul sito della Taglas perchè fa sempre degli sconti super 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 interessanti e io oggi compro della skin care già avevo preso un tipo BB cream della Shiseido e un siro di Dior molto scontato ho disperato una quindicina di euro su tutte e due quindi ero contenta e adesso vanno gli sconti per solo il 15% ho anche dipiso certi prodotti e fino al 6 c'era anche un ulteriore scontro del 10% quindi mi serviva mi serviva assolutamente un contorno di cui il primo è della linea naturale non è bio, attenzione e questa è la linea natura della Collistar ho appunto 95% di ingredienti naturali questo non vuol dire né biologico, né copio, né nulla di tutto cioè è semplicemente 95% di origine naturale però il packaging è ecosostenibile cosa che mi piace molto 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 l'unica cosa è che visto che possono fare questi pack non capisco perché non lo faccio tutti e non lo so, solo su questa linea comunque vabbè perché poi l'altro contorno occhierà in un pack di carta plastificato comunque questa è penso carta riciclata talmente riciclata e allora quindi passiamo già il contorno occhi per pelli normali e secchi io sul contorno occhi sono molto secca è molto 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 sottile un prezioso passo che risveglia spettariamente il mio stato dello sguardo cancelli segni di fatica levita l'aria pericolare previene un tema a borsa occhiai e linee di espressione per un contorno occhi sempre tonico e giovane facilita l'applicazione del make up per l'esaltare faturare più lungo per esogirla formula che conegga il frutto di ricattante della steve italiana con le proprietà del ventillo nero che combatte con più riposo e occhiai ed è un verbo di normali e secchi questa devo dire che non ha un prezzo neanche eccessivo perché penso che il prezzo pieno sia 18 euro e contante che i contorno occhi comunque cioè costano sempre tanto sono sempre 15 ammelle di prodotto di solito costano 50 o no che buono meno di 12, 13, 10 euro non lo pagate questo in sconto costava 14 quindi mi è sembrato buonissimo a questo non l'ho ancora utilizzato perché ho cominciato a utilizzare l'altro ma vedremo vedremo e vi saprò l'abbiamo 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 il contorno occhio è fatto in questo modo mattina e sera quindi questo fatto così l'applicatore normalissimo è il primo acquisto il secondo acquisto sul sito della Douglas è stato un altro contorno occhi sempre della Collister comunque appunto non è questo ho comprato appunto questa BB Cream della Shiseido mi sconto sul sito della Douglas quando ho comprato le cose che costano tanto cioè conviene tanto sul sito della Douglas devo dirvi la verità e niente troppo in siccome questa mi sto rubando molto bene seconda cosa il rossetto che indosso ve la vedete perché è un po' di cambi colori comunque è questo che non mi sa che sconto ma è tipo il mio rossetto preferito questo è il rosso più bello che lo abbia del 601 della collezione Rouge in this month della Rouge poi si bellissimo però costa 12 euro comunque l'altro contorno occhi che ho preso è questo qui ed è un applicatore questo è della collezione idrativa a idrogelo che effetto ghiaccio perché questo è un applicatore in ceramica e appunto è tipo l'urlo quindi lo spalmi sotto gli occhi non c'è bisogno di fare nulla con le mani e la ceramica permette appunto di ottenere un po' un effetto freddo poi se lo se lo si mette anche in frigo e mi devo dire la verità io i contorno occhi li prendo un po' a caso nel senso che non cercando antirughe non è che si veda contorno a differenza perché più di tanto un contorno occhi sicuramente non può fare sul sul mio viola e soprattutto dipende tanto da quanto dormo e da vari fattori esterni quindi magari è un contorno occhi buono però in quel periodo sono particolarmente sfatto e quindi non vedo niente dipende ultimo acquisto sono stato della Douglas e di questo acquisto sono un sacco contenta è questo qui un mini rosato della MAC questi sono quelli da un 1,8 grammi e è il valvettetti vedete piccolino e io adoro questo colore che ognuno è pazzesco molto molto si mi animerà bra e questo è e l'ho pagato non l'ho pagato 8 euro 7,50 cosa del genere con lo sconto comunque costano tipo 8,50 prezzo pieno no costano 10 prezzo pieno ecco ho pagato tipo 8 euro e alla fine costa pochissimo è costato pochissimo perché se contate che a prezzo pieno uno della MAC costa 20 sono 3 grammi questo è 1,8 e già comunque 10 euro è meglio quindi convengono tantissimo e la cosa che mi piace è che così no io non spreco prodotto perché questo magari lo finirò però i rosati della MAC che ho cioè sono ancora all'inizio ancora quindi mi piace piuttosto prendere le mini size e non sprecare del prodotto perché proprio mi dispiace infatti io vorrei tantissimo che vi giuro cioè se Clio Makeup uscisse con tutti i suoi rossetti tipo mini size io spenderei anche tantissimo perché li indosserei tutti semplicemente prendere tutti grossi non ha senso perché non li indosserei mai non li finirei mai io sono pro le mini size e ok quindi questi non ho i acquisti da Douglas e tutto speso 44 euro tutto scontato tutto il prezzo finale finale quindi sono soddisfatta comunque ok ok invece oggi oggi è sabato e questo video lo vedrete penso lunedì quindi ieri l'altro ho fatto sono andata appunto nella mia città ho fatto un po' di acquisti e ho preso delle cose che mi piacciono tantissimo allora il primo visto l'ho fatto vabbè in un negoziato penso che la marca è questa si chiama piccolo e ho preso questo magliancino che indosso adesso provo ad alzarmi a farvelo un po' vedere ma non si vedrà che è fatto così è color rosa tipo un po' i miei capelli rosa scolorito molto chiaro tipo cipria e come vedete è molto lungo arriva un po' meno di metà coscia molto largo e mi piace tanto cercavo tantissimo magliancino perché è semplicissimo super semplice caldo e si può portare sia con dei jeans attillati perché alla fine non è così lungo sia con una gonna e i collant quindi è comodissimo sia da giorno che da sera per il mio stile adesso non devi andare da nessuna parte in particolare e questo l'ho pagato allora prezzo pieno costava 65 e in sconto l'ho pagato 52 alla fine ci sta come prezzo io comunque preferisco prendere pochi capi ma che spero mi durino e cerco di prendere dei capi che non passino di moda e e e soprattutto e abbinabili un po' a tutto che non sono super particolari perché mi da da avere meno roba e non so da avere uno strepio semplice ultimamente piuttosto che molto elaborato cose varie anche perché è più facile da abbinare e se lo trovo questo ve lo metto su 21 buttons un po' a tutto Mi piace che le maniche siano un po' lucche, ok, poi altro acquisto, sempre della stessa marca, penso sì, piccolo, è fatto così l'etiquetta, e questo maglione, adesso farò una fatica incredibile a farvelo vedere perché non ho molto spazio, magari si mette una foto in cui l'indosso, così così, e allora è fatto così, e appunto questi tre colori è cortino, sempre toni molto neutri, però caldi, e questo è tipo un panna, becciolino, biscotto e rosa cipria, anche questo, un po' più rosa questo, questo colore è un misto fra questi due, e mi piace tanto perché anche questo secondo me è super vero, satile, io adoro mettere questi colori d'inverno, e sta bene con qualunque cisco, qualunque pantalone, quindi top, fantastico, e se volete dico anche di cosa è fatto, questo l'ho pagato 40 in sconto, ho messo questo con tipo 50, a prezzo pieno, io avevo bisogno di questo tipo di, 58% acrilico, 20% mohair, che è un tipo di lana, 10% lana e 8% polyamide, e di poco da questa marca, e niente, quindi sono molto contenta anche di questo acquisto, mi ero fissata che io volevo un capo color senape, non so perché, ma sono fissatissima, questo capo ha 49 euro in, non scusco, 50 euro, è un prezzo pieno, ho visto ci fosse il 30, quindi l'ho pagato 32 euro, ed è bellissimo, e, cavolo, questo cerco di vendervi una foto perché la vedo un po' dura, praticamente un cardigan abbastanza lunghino, e anche questo sta bene sia con i jeans, sia con, sotto una gonna, un vestito, che quindi lo adoro, cerco di prendere veramente i capi versatili io, e, è fatto così, molto caldo, ha queste maniche, così, e più, meno arancione di quanto lo vedete, proprio è senape, così, le maniche normalissime, qui ha delle tasche, e qui la particolarità è che ha, in fondo, delle, oddio, non so, come si chiamino, frappe, comunque tipo all'indiana, sono però davanti, dietro non ce li ha, vedete, ed è veramente carinissimo, mi piace tantissimo, questo, questo maglioncino, questo cardigan, e, avendo appunto la scollatura, non so se riuscite a capirlo, è fatto in questo modo, vedete, tipo un po' morbida, si può anche mettere una cintura e chiudere, quindi volendo poi metterci anche una magliettina del cap, però sotto, e usarla quasi come maglia, è molto carino, mi piace molto, e passiamo all'ultimo acquisto, che è l'acquisto più impulsivo, l'acquisto che probabilmente non devo fare, ma è bellissimo, quindi, allora se c'è una cosa che non mi serve, sono i cappotti, perché io ne ho di belli, uno, due, ne ho di belli tre, ora quattro, però appunto ne ho un altro, insomma, ne ho, non ne servono più di tanti, però appunto spero mi torino tanto, quindi uno all'anno, facciamo così, e ho preso questo capotto a sandroferrone, adesso io ve lo faccio vedere, ma non ci capirete assolutamente nulla, vi metto una foto, traprendisi questa foto che vi metto, se è quella che penso, mi piace tantissimo, allora, è fatto, è fatto da cappatoio, molto morbido, molto lungo, questo se siete alti, meno di me, secondo me, non sta bene, perché veramente arriva a metà quel pazzo, io sono alto 1,70, non sono una stanco, ma non, cioè sono normalissima, l'etichetta è questa, questo prezzo pieno costava 160, in sconto 120, però mi ho fatto il 30, quindi 110, l'ho pagato 110, insomma, è tantissimo, allora, io ci provo, davanti, anzi, provo a indossarlo, vediamo come va, e le mie cuffie, e ho preso la L, perché? Avendo molti maglioni è meglio così, e comunque va solo la L, e vedete, l'apertura è fatta così, adesso provo ad alzarmi, è fatta così, e ha la cintura, e è lungo, 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 così, quasi tipi di metà polpaggio, color cammello, c'era anche nero, anche nero era bellissimo, forse anche più bello, ma un cappotto nero, un po' come una fantasia, però nero ce l'ho, e questo c'è cammello, ovviamente, è più elegante, quindi non so, non scello cammello, mi piaceva tantissimissimissimissimissimissimo, oggi portavo anche gli stivaletti con i tacchi, quindi ci stavo proprio bene, e questo è più che il cappotto appunto da sera, però come anche di giorno, secondo me, quindi niente, questi sono i miei acquisti, e comunque ve li farò li vedrete tutti indossati anche su Instagram, e appunto se riesco ve li metto anche su 21 Battles, grazie di essere stati qui con me fino ad ora, e scrivetemi nei commenti qual è il capo, o l'acquisto che vi piace di più, o l'acquisto che vi ispira di più, e scrivetemi come stanno andando per voi i saldi, io sto sentendo che molta gente non trova assolutamente niente, per me i saldi sono utili per comprare cose che sarebbero veramente poor budget, perché più costa, più, anche un 15% è tanto, quindi anche quando ci sono i 30%, per me è buono, e appunto prendo le cose che mi servono, questo inverno sono stato bravo, ho preso solo con i saldi, ho preso per i saldi del mid-season, non ho preso col prefetto, ho preso col mid-season, e appunto con questi saldi i saldi invernali, quindi ora è giunta l'ora di abbassare le soggyle, e appunto con questo buona, 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 buona notte in molti di voi mi avete chiesto di ricominciare un po' le frasi motivazionali alla fine del video durante la buona notte e quindi se c'è una cosa che vi posso dire è che tutto ciò che mi succede nella mia vita tutto ciò che sto leggendo, tutto ciò che sto vedendo anche per caso forse sono sempre stata esposta a questo concetto ma ora lo sto votando, probabilmente così comunque saluto anche Irene che anche lei ha fatto un discorso del genere molto bello vi invito a guardarlo, vi lascio il link qui sotto del suo video è di allenare la gentilezza, essere gentili perché la gentilezza e quindi l'amore portano veramente tutto, tutto ciò che di più bello c'è nella vita sembra un discorso facile non è per niente facile soprattutto con il mio carattere non è per niente facile perché, abbinatevi, non ho un carattere facilissimo io però voglio veramente che sia il mio obiettivo più importante del 2019 allenarmi, essere più buona, più gentile, più disponibile una persona migliore quindi sì volevo solo condividere questo mio pensiero con voi buona notte buona notte e vi mando un bacione buonanotte buonanotte che li spera